Ciao a tutti, incontro sulla lirga religiosa. Vorrei fare una premessa, prima di affrontare la solita presentazione in PowerPoint che trovi sul materiale didattico, perché c'è così una specie di pregiudizio nei confronti della lirga religiosa, diciamo, ma come mai ci occupiamo di questi santi offrati che scrivono poesie? Ecco, perché da una parte sono appunto poesie, restano poesie, anche se ovviamente la forma prediletta, l'oggetto della loro poetica, ovviamente è un Dio, non può altro che essere questo. Dall'altra, perché? Perché come abbiamo visto già in altri video, un video al quale ti rimando sull'origine della lirica italiana, beh, certamente il sentimento amoroso è importante, fondamentale, e resterà tale per tutto il 1300 almeno, ma possiamo dire per buona parte della letteratura fino ai tempi nostri. Perché allora la religione? Perché evidentemente abbiamo un solo cuore per amare Dio e un solo cuore per amare la donna, la donna amata in questo caso dei poeti, per amare i parenti, per amare i nostri genitori, per amare i nostri figli. Per cui non c'è una distinzione netta da poter operare su lirica religiosa e lirica, a virgolette, laica. Allora, ho intitolato Un percorso poetico e filosofico, questo di Francesco Iacobone, perché evidentemente c'è alcuni aspetti che vanno indagati oltre il semplice ambito poetico. Partiamo da San Francesco, La vita. La vita è una vita molto affascinante, se non è stato oggetto di molti libri. Ti rimando al libro di Cardini, Franco Cardini, su San Francesco. Ti rimando al, sempre l'ottimo spunto che può dare il film di Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, con ovviamente una visione che è giustamente filmica. Per noi ti voglio presentare un'altra fonte della vita di San Francesco, che è Dante. Lo studieremo in quinto e a questo verrà dedicato quindi uno specifico video. Però attenzione perché già adesso possiamo dire alcune cose interessanti, perché non è un problema legato esclusivamente all'undicesimo canto del Paradiso e quindi al programma di quinto anno, quanto piuttosto al fatto che Dante ci presenta una biografia del Santo di Assisi che ha alcune particolarità, proprio narratologiche, nel senso che i canti undici e dodici vanno presentati, vanno letti in parallelo perché Dante ci presenta queste due figure di Santi che sono da una parte San Francesco e dall'altra San Domenico, specularmente. Cioè, andiamo più nel concreto, nel dettaglio, perché è più semplice forse da capire. I protagonisti sono ovviamente San Domenico e San Francesco, come abbiamo detto, i narratori, per questo ti dico che è importante dal punto di vista narratologico, i narratori sono San Tommaso, cioè appunto un dominicano, e San Buonaventura, cioè un francescano. Allora, trattano, e Dante li tratta in questo modo perché appunto in realtà l'oggetto della cura, diciamo veramente l'indole primaria di questi due ordini religiosi sono di fatto la stessa cosa. I francescani rappresentano l'ardure della carità, bene, perché evidentemente sono capaci di far innamorare il cuore degli uomini, sto un po' semplificando, le nozioni teologiche vanno ben oltre anche le mie competenze, ben oltre forse a quello che ti interessa tuo adesso. Però appunto si può parlare di innamoramento del cuore attraverso la carità che i francescani hanno proprio come vocazione particolare, carità quella legata appunto al mangiare, al vitto, all'alloggio, dare un posto per i poveri, trovare un posto per i poveri, ecco questo va e proprio fa parte dell'indole dei francescani, li troviamo in tutto il mondo, li troviamo in tutto il mondo sempre con una particolare cura e attenzione per i più poveri in assoluto. Si parla di ardure della carità. Dall'altra i dominicani rappresentano la sapienza di Dio, capaci di far innamorarlo, un po' semplificata in questo modo, far innamorare il cervello, perché ovviamente con la loro carità intellettuale, cioè con lo loro studio, quindi con la loro predicazione, che si risolve poi nella predicazione o ex cathedra, o dalla cattedra universitaria o dal pulpito di una chiesa, evidentemente stanno facendo una carità di altro genere, non quella corporale, non è dare da mangiare al povero, ma è dare da mangiare alla persona che non ha formazione cristiana. Allora questo è un altro tipo di carità, ma sempre di carità e sempre di cuore, quindi stiamo parlando. Quindi sono due ordini che nascono specularmente quasi nello stesso periodo, proprio perché hanno appunto questi due aspetti particolarmente a cuore, che evidentemente erano stati tralasciati dalla chiesa, tra virgolette, gerarchica, stiamo generalizzando, e tutte le generalizzazioni sono sbagliate, però la chiesa forse in quel periodo si era un po' dimenticata, ma su questo torneremo. Così come, piccola parentesi artistica, ti richiamo il famoso elefantino davanti a Santa Maria sopra Minerva, il falalelefantino del Bernini, te lo riguarderai dietro al Pantheon, l'avrai visto chissà quante volte, però è interessante perché è un obelisco che funge da basamento dell'obelisco egizio, però è interessante perché simboleggia la sapienza e l'elefante è la mente robusta che serve a sorreggerla. Ecco, ho messo questa foto che mi interessava non tanto per il Pantheon, ma per quel palazzo che trovi. Anche qua ci sarebbe da fare una piccola aggiunta, trovi appunto proprio dietro il sedere dell'elefante, non sarà un caso, Bernini aveva avuto dei problemi economici con i dominicani, perché stiamo parlando della casa generalizia dei dominicani che è sita proprio in quel palazzo e allora evidentemente Bernini non è stato pagato al tempo giusto, non è stato pagato tutto quello che doveva essere pagato e allora mette in dirizza appunto questa parte, non certo nobile dell'elefante, la indirizza proprio verso le finestre da dove i dominicani, i più importanti dominicani del mondo, si affacciavano. Vabbè, chiusa questa parentesi, è evidente però che il ruolo dell'ordine dei dominicani nell'approfondire la sapienza di Dio, la scienza teologica, è in dubbio ed è appunto da sempre rappresentato un punto di riferimento anche per i papi, rimando semplicemente all'innocenzo terzo, che manda appunto proprio Domenico, ovviamente ancora non santo, a cercare di far rientrare l'eresia catara che stava appunto dilaniando in qualche modo la cristianità nella Francia meridionale. Siamo agli inizi del 1200. Va bene. Nemici comuni della fede, ecco questo stavamo dicendo, lo Spirito Santo, ovviamente in un'ottica degli credenti, lo Spirito Santo ispira la nascita di questi due ordini mendicanti, scandalo assoluto per quell'epoca, che ci siano delle persone che vivono solo dell'elemosi in altrui, questa è una cosa scandalosa, assolutamente fuori da un'illogica, ma appunto perché? Perché lo Spirito Santo ispira la nascita di questi due movimenti? Perché? Perché hanno almeno tre nemici comuni, l'avidità e il desiderio di potere degli uomini, in particolare, ma ovviamente non solo, quelli di Chiesa, ti ricordai tutta la questione dei Vescovi Conti, cioè il potere temporale era fortemente interessato, e viceversa, al potere spirituale. Il potere spirituale si era in qualche modo allontanato da quello che era il messaggio evangelico dell'inizio, e si era ovviamente perdendo, si era venuto perdendo nel turbido del potere, dei soldi e della carriera, eccetera, eccetera. L'eresia catara è l'ennesimo ritorno della niosi antica, qua rimando alla lezione di filosofia che starai seguendo, in cui già dignosi si dovrebbe parlare, cominciare a parlare, ma su questo abbiamo già detto l'eresia catara, quanto venne avversata dalla gerarchia cattolica, giustamente essendo una eresia. L'ingerenza del potere spirituale su quello temporale, appunto sempre più spesso i Vescovi, i Vescovi, i Cardinali, i uomini della gerarchia, nella gerarchia della Chiesa ecclesiastica, pretendono di prendere il posto di governanti. E ovviamente su questo Dante si fermerà molto, faccio riferimento ai sesti canti della Divina Commedia, che tutti quanti, in un modo o nell'altro, parlano degli uomini di fede, uomini di chiesa, che dovrebbero dedicarsi alla predicazione, e invece si dedicano al governo che ovviamente porta con sé il potere, la fama di soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Domenicani e Francescani nascono in questo periodo proprio per combattere questi tre nemici comuni della fede cattolica. Allora, proprio perché non c'è mai stata, se non nella leggenda che nasce dopo, forse nell'immaginario collettivo legato al Medioevo, non c'è mai stata alcuna lotta profonda, magari qualche schermaia fra qualcuno, ma come è naturale, fra uomini, fra esseri umani, intendo, però non c'è mai stata una ostilità dei Francescani contro i Dominicani e viceversa. E questa non ostilità, anzi questa perfetta integrazione fra il carisma dell'uno e il carisma dell'altro, la vediamo proprio nella specularità dell'undicesimo e del dodicesimo canto del Paradiso della Divina Commedia. È una specularità che Dante, in maniera molto intelligente, senza le prediche che sto facendo anch'io in questo momento, in maniera molto letteraria, come è giusto che sia all'interno di un'opera letteraria, però ci spiega come questi due carismi, in realtà il carisma dei Francescani e il carisma dei Dominicani, si accavallano, hanno come unico scopo l'odidio, hanno come unico scopo l'aiuto del prossimo, un aiuto materiale, magari nel caso dei francescani, un arrivato intellettuale, nel caso dei Dominicani. Perché? Perché c'è un narratore che narra la vita del santo e denuncia i mali dei frati attuali. Ma chi? Appunto. Nell'undicesimo canto troviamo un narratore, che appunto è Sant'Omaso, che parla della vita, che illustra la vita di San Francesco. ovviamente, come si vede anche dai vestiti, Sant'Omaso è un Dominicano, San Francesco è il fondatore dei Francescani. Cosa denuncia Sant'Omaso? In maniera molto elegante, sarebbe stato strano al contrario, denuncia ovviamente i mali odierni che affliggono l'ordine dei Dominicani. Evidentemente lui che Dominicano è. Nel dodicesimo canto che cosa troviamo? San Bonaventura, che come si vede ai vestiti, e lo stesso vestito, lo stesso saio di San Francesco, si incarica di narrare la vita, ovviamente, dito di Domenico. La vita di Domenico, che ancora una volta ti invita a guardare appunto l'iconografia di questi santi, ovviamente ha il vestito, ha il saio proprio dei Dominicani. Tutt'oggi li vediamo a Santa Maria Sopra Minerva, appunto, di questi due colori molto caratteristici. Denunciando San Bonaventura che cosa? Ovviamente, specularmente, a quello che fa San Tommaso, denunciando i mali odierni che affliggono l'ordine dei Francescani. Allora, questa specularità perfetta, questa perfetta simmetria, non fa altro che confermare quello che dicevamo prima. I due carismi dei due ordini mendicanti che nascono agli inizi del 1200 sono carismi perfettamente integrati fra di loro, che guardano al cuore dell'uomo e guardano al bene del prossimo, con modalità evidentemente differenti. Ma passiamo ad un altro aspetto. Questa vita di, questa breve biografia in poesia che Dante scrive, viene messa in musica da Brando Arti. Te lo segnalo così, la puoi cercare agilmente su YouTube. San Francesco era un grande, dice Brando Arti, poeta, amava cantare, lo faceva spesso, anche da solo. Per accompagnare il suo canto e dole creatore, aveva composto una musica che è andata perduta. Io ho provato a ridare voce alle sue parole, perché si possa di nuovo cantarle. Ecco, Brando Arti scrive, pubblica un CD, un molto interessante, che è appunto l'infinitivamente piccolo, riprendendo tutte le fonti francescane. E quindi riprende anche, che non è la fonte francescana, è Dante, riprende l'undicesimo canto del Paradiso della Commedia. Ti invito ad ascoltarlo, perché è anche una musica piuttosto gradevole. Le opere. Abbiamo il cantico, il cantico di Frate Sole, che trova appunto le pagine 85 e seguenti. È un'opera molto, molto interessante. Poi l'analisi, evidentemente, la potrai vedere nel dettaglio sul nostro libro, che è fatto molto bene. Io metto in rilievo soltanto le due parti di cui è composto. Cioè, da una parte abbiamo l'esaltazione dell'intero mondo, è la parte che forse conosciamo di più, in cui si esalta il sole, la luna, il vento, il fuoco. Perché? Perché si esaltano queste realtà terrene, materiali? Perché sono state create da Dio, e quindi sono buone. E quindi, con il loro solo esistere, raggiungo il fine ultimo, che è dare gloria al loro creatore. Te lo segnalo come dato molto importante. Questa è l'ortodossia cattolica sulla materialità del corpo, che ovviamente capirai da solo quanto è lontana dall'eresia catara, che invece vedeva proprio nel corpo il male, in ciò che è immateriale, il dominio perfetto del demonio. Assolutamente così, non è per la dottrina cattolica, non lo è stato nel 1200, quando San Francesco scrive questa, quest'opera non lo è mai stato nei secoli passati. Qualche caso lo sarà nei secoli successivi a Francesco, ma è sempre una distorsione, no? Nel senso che nella Genesi Dio crea, appunto, Adamo ed Eva, uomo e donna, con l'invito a moltiplicarsi. Non c'è nessuna negatività nell'attività sessuale, non c'è alcuna negatività nel possesso dei soldi. Abbiamo ricordato più volte come dai francescani nasce l'idea della banca, che sembra un controsenso, da quelli che hanno fatto della povertà, il loro vessillo, nasce l'idea di un capitalismo antelittera. Ma ecco, sì, sì, perché? Perché i soldi non sono un male per la dottrina cattolica. È la esaltazione dei soldi, è la dipendenza dal denaro, dal potere, dal sesso, che porta con sé il male. Ma non ha in sé queste realtà che sono naturali. Tutto questo c'è nell'opera di Francesco, scritto in maniera perfetta, in maniera molto, molto chiara. Ci fermeremo abbondantemente sull'uso della proposizione per, che più e più volte troviamo nel cantico, che comunque la si voglia interpretare, comunque riporta a questo tipo di interpretazione. Tutto quello che c'è nel mondo è buono perché è stato creato da Dio e quindi a Dio tende, in qualche modo. Nella seconda parte del cantico noi troviamo la esaltazione della libertà dell'uomo. Ecco, anche questa è un'altra delle caratteristiche negate dall'eresia catara. L'eresia catara pensava appunto che ci fosse una predestinazione, da non confondere con la prescienza di Dio in cui anche la dottrina cattolica crede. Ma non c'è predestinazione nel cristianesimo. Non siamo segnati dalla nascita per andare in paradiso, per fare del bene, o al contrario, per andare in paradiso dopo aver fatto del male lungo la nostra esistenza. Non esiste questo nella dottrina cattolica. C'è nell'eresia catara. San Francesco, guarda caso, mette in rilievo, come poi farà mille volte Dante, il libero arbitrio. Indipendenza di come mi comporterò in vita, io mi guadagnerò l'inferno o il paradiso. Semplicemente questo. Allora, così a commento, a chiusura delle opere, l'unica opera che leggiamo, ce ne sono altre, di Francesco, ti volevo segnalare appunto l'ascolto del cantico delle creature di che fa appunto sempre di nuovo Branduardi. Allora, l'ho voluto mettere in questo video e quindi te lo propongo. È un testo, sono due slides che io ti propongo dove a sinistra trovi il testo di Francesco, a destra trovi il testo rimaneggiato, lievemente rielaborato da Branduardi. Non è soltanto uno studio testuale, quello che Branduardi fa sulle fonti francescale, ma è anche uno studio musicale. in qualche modo ricrea i ritmi della musica, di quel poco che sappiamo della musica medievale, attraverso degli strumenti che sono particolari. C'è tutto uno studio che io non conosco, però filologico, sulla resa musicale di questo periodo. E quindi Branduardi studia esattamente questo. Ma ti lascio. Ecco, certamente non è un tipo di musica come la nostra, però è un esperimento che Branduardi, mi sembra, abbia condotto con molta intelligenza e con un certo anche interesse per noi. Passiamo ad un altro argomento, cioè ad un altro autore, Jacopone da Todi, che come vedrai è una realtà totalmente differente rispetto a quella di Francesco. Torniamo alla nostra presentazione in PowerPoint. Ti rimando ovviamente alle pagine che sono indicate sulla colonna di destra del nostro libro per vedere la sua vita, perché c'è qualche cosa che ci può interessare. Nasce a Todi, siamo sempre nell'Umbria, fra il 1230 e il 36, studia legge a Bologna, ancora una volta, insisto su questo, fatto che, in buona parte, San Francesco, non sappiamo, studia legge, studiano all'università, studiano all'università i nostri poeti, a differenza dei poeti delle altre letterature. Diviene notario, proprio operatore legale, conduce una vita spensierata fra, ovviamente, pranzi, cene, feste, balle, danze, eccetera, eccetera. Però una particularità colpisce che lo colpisce, lo trasforma, lo converte, in questo senso, perché ovviamente nel 1268 muore la moglie durante una festa per il crollo del pavimento in cui si trovava, dove si stava svolgendo questa festa, con l'abballo e sul corpo della moglie, ormai il cadavere della moglie morta, viene trovato un cilicio, che è una specie di maglia di lana grezza che veniva usata comunemente per penitenza, nel senso che per, tipico del cristianesimo, quello di volere, in qualche modo, assomigliare a Cristo, Cristo che è stato sulla croce, è stato flagellato prima, poi crecefisso per noi, evidentemente è un modello anche in questo, e quindi è tipico della storia del cristianesimo presentare dei piccoli, più delle volte, a volte non troppo piccoli, sacrifici. Allora, questo ovviamente è sgradevole, avere qualcuno avrà improvato o avere sulla pelle una maglia di lana grezza, non è proprio gradevolissimo, adesso ovviamente siamo abituati a tessuti caldi e comodi contemporaneamente, a quel tempo evidentemente c'era questa possibilità, come piccola penitenza per assomigliare a Cristo, io tengo una maglia che mi dà un certo fastidio, non crea chissà quale dolore, non crea ovviamente nessuna nessuno scompenso medico, però mi fa in qualche modo ricordare almeno che Cristo ha sofferto per me e io in qualche modo sto completando quello che Cristo ha sofferto sulla croce. Questo però sconvolge completamente la vita di Jacopone che infatti abbandona completamente la sua professione abbandona quella che è la vita che aveva fino allora condotto per cominciare a vivere delle mosse quindi di fatto come facevano i francescani. Ecco qui viene ritratto con il volto evidentemente molto emaciato dopo vari rifiuti finalmente riesce ad essere ammesso nel 78 come frate laico nell'ordine francescano e sceglie guarda caso evidentemente proprio scioccato da questo atteggiamento della moglie con la quale aveva convissuto per diversi anni e della quale non aveva conosciuto però questa diciamo dimensione ascetica religiosa colpito da questo ovviamente è attratto dalla da questa dimensione di forte severa mortificazione del proprio corpo ascete appunto si chiama aschesis in greco significa esercizio qua è un continuo esercizio nel privare il proprio corpo di qualsiasi tipo di piacere e allora è evidente che la sua propensione va per quella quella quel ramo dei francescani purtroppo dopo la morte di francesco subito si divisero almeno in due grandi rami che poi vennero addirittura poi dividendoci ulteriormente nei secoli successivi che prende il nome di spirituali o fraticelli che appunto prediligevano questa per dire questa vicinanza al loro fondatore che appunto era morto senza alcun possesso anzi aveva rinunciato a tutto quello che gli aspettava per nascita e muore muore addirittura senza neanche una bara di suo senza neanche questo ecco la radicalità della scelta francescana non sceglie ovviamente quella dei conventuali san francesco addirittura non voleva neanche che ci fossero dei conventi cioè delle case di frati se qualcuno ti ospita nella stalla in una stanza in un sottoscala quello è bene altrimenti dormi sotto gli alberi altrimenti dormi all'aria invece i conventuali diciamo almeno un convento per quanto scarno e sono tutt'oggi piuttosto semplici le stanze e i conventi dei francescani però ecco almeno una casa che ci sia e questo veniva visto da alcuni come un eccesso di morbidezza diciamo un eccesso di lusso che andava contro la regola in qualche modo così ma evidentemente stiamo parlando forse di un'esagerazione allora lui diventa si avvicina molto alla corrente ovviamente degli spirituali e di questo noi abbiamo traccia nelle sue opere ci restano le laudi e donna del paradiso in tostesti che vedremo nella poesia o signor per cortesia noi troviamo appunto quella che è la forse esemplificazione della poesia di Jacopone più evidente cioè o signor per cortesia mandami la malsania cioè mandami la malattia a tutti i livelli visto che il corpo è male ecco questo è il presupposto da tenere presente per Jacopone da Todi visto che il corpo è male visto che non dobbiamo seguire i suoi piaceri allora dobbiamo dare al corpo delle mortificazioni dobbiamo in qualche modo trattarlo con un certo rigore quasi con cattiveria ecco addirittura appunto invoca su di sé qualsiasi tipo di malattia una malattia che sia ripugnante che lo allontani dalla società civile che lo renda odioso quasi agli altri uomini quasi dire la sua memoria quasi deve portare sfortuna deve essere addirittura invoca per sé una morte che ma te ci vengono un po' i brividi a pensarci sogna di essere chiede al Signore anche da non è un sogno è proprio una preghiera chiede al Signore di essere divorato da un lupo quindi morire in questo modo e defecato in mezzo ai rovi questa sia la mia tomba allora che cosa traspare da questo atteggiamento certo una visione forse un po' problematica distorta direi negativa del cristianesimo che non è quella di Francesco quello che abbiamo visto prima che invece è l'ortodossia cattolica tutto ciò che è materiale che sia nel mondo fisico nel mondo vegetale nel mondo animale nel mondo ovviamente umano tutto ciò che è materiale il corpo è creato da Dio e a Cri a Dio tende per Jacopone no sembra appunto qua ovviamente non mi azzardo a dire che aveva delle tendenze catare però si avvicina questa visione del mondo materiale a quella che avevano i catari questo di Jacopone sembra essere una visione piuttosto eretica e appunto l'esagerazione a cui arriva in questa poesia sembra in qualche modo confermare che forse appunto non fosse non fosse proprio vicino all'ortodossia cattolica ma ripeto a Todi viene venerato appunto come santo come personaggio ranguardevole è un personaggio comunque da studiare ecco in questo senso in questa poesia vi sto parlando di questa poesia l'ortodossia cattolica sembra non essere abbracciata dall'autore ma non scrive solo questo scrive Donna di Paradiso che è un'opera molto molto interessante perché è una specie di riproposizione degli ultimi momenti delle ultime ore di vita di Cristo riproposizione teatrale per cui noi abbiamo e le utili quindi scrivelo sul libro vicino ai vari testi alle varie stanze che compongono questa laute chi sta parlando perché ci sono vari personaggi veramente come in un teatro vari attori che ricreano in qualche modo quella che è la crocifissione flagellazione crocifissione e morte di Cristo i personaggi principali sono ovviamente da una parte di Cristo dall'altra la Madonna Donna di Paradiso fa riferimento appunto alla Madonna ma come viene presentata questa donna? viene presentata come una donna disperata che invoca dal proprio figlio la morte immediata subito visto che ti stanno uccidendo in questa maniera così cruenta così tremenda anch'io ti chiedo di morire adesso cioè cos'è che manca e di nuovo ce lo allontana Jacopone ce lo allontana dall'ortodossia cattolica che manca del tutto qualsiasi riferimento alla speranza del dopomorte del valore redentivo della morte di Cristo la morte di Cristo non è stata una morte eccellente fuori dalle righe eclatante perché potessi no è una morte che redime l'intero genere umano e quindi è Felix colpa diceva un testo antico felice colpa quella che appunto ti ha ucciso questa di averti ucciso è una colpa felice sembra uno simore in buona parte lo è ma è un paradosso teologico per cui meno male che c'è stata la morte di Cristo per quanto ripeto paradossale quasi blasfema possa sembrare questa frase però meno male perché grazie a questa morte tutti i nostri peccati i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi di tutti i luoghi sono redenti essendo stato un sacrificio immenso e ovviamente quello che viene redento è immenso e quindi viene tutto redento di questa dimensione la donna presente la chiamo in questo modo la donna presente in questa poesia si dimentica completamente piange si dispera invoca la morte ma si dimentica completamente di quello che era quello che già era stato in qualche modo a lei predetto che questo tuo figlio verrà per la salvezza di molti sembra dimenticarselo questa donna ancora una volta si insiste invece sull'aspetto drammatico della morte di Cristo che certamente c'è stato non è stata una morte piacevole ma prevale certamente l'aspetto positivo la speranza del futuro del genere umano redento da questa morte cosa che ancora una volta ripeto nell'opera di Jacopone manca completamente l'ultima opera che affrontiamo è O iubilo del core in cui appunto finalmente in qualche modo sembrava anche noi respirare dopo questo un po' quest'atmosfera un po' cupa che troviamo finalmente c'è invece gioia la gioia entusiasta la contemplazione mistica di Dio porta con sé una gioia inarrabile indescrivibile pazzesca ecco di nuovo contrasta completamente con quello che ci siamo detti prima in relazione alle due poesie che abbiamo finora analizzato e anche questo attenzione perché lo ritroveremo quando parleremo di ineffabilità del sentimento amoroso fateor in latino significa dire ineffabile che non si può dire l'esperienza amorosa è indescribile talmente forte sia perché ha come oggetto Dio sia perché in realtà come fai a spiegare quello che succede in un cuore innamorato ecco questo porta con sé un'ineffabilità dell'esperienza amorosa in questo caso dell'amore volta a Dio ma poi appunto troveremo queste caratteristiche di afasia di impossibilità di parlare di descrivere quello che mi stacca dentro anche in tanti altri poeti che non si rivolgono a Dio ma che hanno invece davanti a sé la figura femminile ti faccio un confronto per farti capire quanto è trasversale questo tema questa dimensione pensa a Catullo che rimane appunto senza parole davanti alla donna amata Catullo quindi siamo nel primo secolo avanti Cristo non c'entra niente con il Dio di Jacopone da Todi non c'entra niente con questo ma sono quelle tematiche trasversali che è facile riscontrare nella storia dell'alteratura è facile riscontrare lo vedremo appunto in quinto quando Dante si trova di fronte alla visione beatifica di Dio il trentatresimo del paradiso sarà soltanto un balbettio ecco quindi non si può descrivere Dio sarebbe non sarebbe Dio se fosse descrivibile comprensibile da parole o da concetti umani e allora appunto con questo chiudiamo questa presentazione sulla lirica religiosa che è una poesia molto molto ricca certamente con una grande dignità letteraria alle spalle che come tale verrà apprezzata anche da autori del novecento penso alla stima immensa che aveva un Ungaretti nei confronti di Jacopone da Todi in questo momento c'è per noi importante perché è una poesia che funge in buona parte da completamento alla comprensione della tematica amorosa che stiamo e affronteremo continueremo ad affrontare per tutta la buona parte dell'anno alla prossima